Sì, grazie per la linea. Proprio in questa stradina, a ridosso del comune di Marano e di Via Lazio, dunque della caserma dei Carabinieri, ha perso la vita questa notte intorno alle 4 Salvatore Arcillo. 32 anni, dipendente della ditta di nettezza urbana, la Tecra, che da circa due anni si occupa proprio del servizio di igiene urbana qui a Marano. Stava raccogliendo i rifiuti in questa strada, come ogni notte, quando a quanto pare sarebbe scivolato dalla pedana posteriore dell'autocompattatore il collega che era alla guida del mezzo, dunque in manovra. L'ha praticamente schiacciato, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto i Carabinieri, che adesso hanno sequestrato il mezzo per tutti gli accertamenti disposti dalla procura, e stanno interrogando proprio in questi minuti il collega, il collega che purtroppo era alla guida e che ha effettuato la manovra, che ha ucciso Salvatore, sposato e padre di due bambini. Ricordiamolo, morto sul lavoro a soli 32 anni. A quanto pare si sta anche indagando per capire il funzionamento dei sensori che sarebbero in dotazione al camion, che dovrebbero bloccare il camion, proprio il mezzo, quando non vi sono operai sulla pedana, da capire se questo sistema era stato disattivato per accelerare le operazioni di rimozione. Dunque ancora una tragedia sul lavoro, solo poche settimane fa, sempre nell'area nord, un altro operaio aveva perso la vita, lo stile di Giuliano, dunque anche lui impegnato nel ciclo dei rifiuti e purtroppo era morto sul lavoro. Dunque questa al momento la notizia è stata disposta all'autopsia sulla salma e si attende l'esito dell'interrogatorio per il collega. Il servizio, poi la linea, poi ritornare allo studio. Dramma a Marano, un operaio salvatore Arcello, 32 anni, è morto in via sconditi a due passi dal municipio schiacciato da un ato compattatore che stava raccogliendo i rifiuti. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri della locale compagnia e i sanitari del 118 di Varcaturo. I soccorsi hanno potuto solo constatare il decesso della vittima, interdetto poi l'accesso della strada al traffico veicolare per diverse ore, ancora incerta la dinamica al baglio dei militari dell'arma. La ditta Tecra, con sede legale ad Angri, opera a Marano da circa due anni. I militari dell'arma stanno ora tentando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, ma per ora sembra ci siano poche incertezze. L'auto compattatore, in retromarcia, ha preso in pieno il ragazzo, rimasto incastrato. Una tragedia e una terribile fatalità. I carabinieri hanno indagato l'autista per omicidio colposo, un atto dovuto. Intanto il pensiero va agli altri incidenti, uno accaduto solo qualche settimana fa allo stir di Giuliano, dove ha perso la vita Aniello Russo.